Qui Caderissi, siamo con Filippo Zamana, il mio entry della Volterese. Entri e fai un assist al bacio e ti picchi come al solito, cambi maglia ma non cambi tu, la voglia è sempre tanta e la qualità è alta anche quando ti picchi, ti picchi bene. Come sono stati questi primi giorni alla Volterese? Cosa vuol dire questo risultato e cosa promette ai tuoi nuovi tifosi? Allora, non cambio, non cambiare no, perché questo è il mio modo di giocare, metto sempre il massimo impegno e cerco sempre di dare il più possibile per la squadra. Questa è una partita importante per la Volterese, anche se sono appena arrivato, una partita di vertice, una squadra difficile, anche se il campo come ben si è visto, ho parlato chiaro, Il risultato per me è giusto, mi è dato dopo, ho dato il massimo per la squadra, per il Mista. Niente, come prima settimana, due settimane di Volterese, è stata una settimana tosta, anche per le vacanze, mi impegno come sempre per dare il meglio per la mia squadra, soprattutto. Ok, giocare per il vertice è divertente, ma anche una responsabilità. Ti dà stimoli o ti fa paura? Mi dà stimoli come per giocare per la salvezza, perché alla fine un calcio per me è una passione, quindi qualsiasi squadra gioco ci metto sempre il massimo del mio impegno. Sicuramente giocare per una squadra di vertice chiede magari, oltre al sforzo fisico, anche mentale, che magari in certe altre partite, altre squadre non si dà così tanto, visto che ogni partita è decisiva e dobbiamo sempre fare tre punti, se vogliamo vincere il campionato. Ok, quindi la Volterese può stare tranquilla che Zammany è pronto mentalmente. Sempre, pronto. Ok, grazie. Ciao, ciao.